Il coordinamento ambientale Milazzo-Valle del Mela, l'Associazione per la Difesa dell'Ambiente e la Salute dei Cittadini e il Comitato No-CSS attaccano il Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta. Il Governatore, nell'edizione del Tg regionale, ha dichiarato di avere la sensazione che qualcuno abbia lavorato per l'emergenza rifiuti apposta per favorire l'autorizzazione veloce per l'impianto inceneritore di San Filippo del Mela. Affermazione che le associazioni condividono in parte, pur rimanendo nella convinzione di non poter assistere soltanto a dichiarazioni a mezzo stampa, dal momento che nella prima fase di lotta alla realizzazione dell'inceneritore la Regione Siciliana non ha assunto alcuna posizione. A tal proposito viene ricordato, come lo stesso Presidente Crocetta, non abbia nemmeno partecipato alla riunione dei sindaci tenutasi al Teatro Trifiletti di Milazzo lo scorso 9 aprile. Alle dichiarazioni a mezzo stampa, il Presidente dell'Adasc, Giuseppe Maimone, chiede che seguano i fatti. Intanto l'approvazione del piano paesaggistico dell'ambito 9, poi un sopralluogo sul territorio accompagnato dai suoi assessori preposti per incontrare sindaci, assessori, consiglieri comunali, associazioni e comitati per spiegare quali azioni intenda portare avanti per bloccare il progetto. Angela Musumeci-Bianchetti del Comitato No-CSS precisa invece che non è vero che tutto dipende dal Governo centrale. Le associazioni chiedono quindi con forza che venga approvato un atto da inviare al Ministero dell'Ambiente per dichiarare la netta contrarietà alla realizzazione dell'inceneritore presso la centrale termoelettrica di Arche.